Baffi grande intervento per recuperare palla ci sarà la tush, la rimessa con le mani taglia in mezzo al campo Van Dijk tercetta bene, attenzione occasione, attenzione, Sala grande parata questa ha cercato una rete di testa ma gli è andata male, palla che termina fuori di un so si era inserito quei tempi giusti mi è mancato giusto quel tocco di precisione in più Fuskas suggerimento verticale di Fuskas palla in alto è con Palmer è stato fermato la difensione Balder buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio succedimento interessante nell'area avversaria ecco Bappé Bappé è convincente ma la netta qui brava il lancio profondo l'hotel occasione per Bappé aveva tutta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma come cazzo è possibile grazie a tutti